Come possiamo osservare e individuare da terra questi oggetti? Ovviamente sono oggetti talmente lontani che nessuna sonda ha mai raggiunto. Si possono solamente osservare da terra, ma proprio perché sono oggetti brillanti ad emissione è possibile osservarli in tanti modi diversi, in diverse lunghezze d'onda. E adesso vediamo proprio questa grande caratteristica. Gli astronomi hanno sempre catalogato quello che vedevano ed esistono due grandi cataloghi. Quello di Messier, che contiene almeno 110 oggetti, e poi quello più completo del New General Catalog, NGC, che ne contiene fino a 8000. C'è da dire che gli oggetti di Messier sono quelli che si possono osservare ad occhio nudo o con l'aiuto di piccoli cannocchiali. A volte alcuni astronomi fanno a gara a fare la maratona Messier, ovvero in una notte cercare di osservare tutti quanti. Pochi ci riescono perché c'è una condizione di luna nuova e nuvolosità particolari. Però, nell'altro caso, il New General Catalog, dobbiamo dire che sono per lo più oggetti presenti nell'emisfero nord, ma che per lo più comprendono anche galassie. Perché, ovviamente, essendo un catalogo molto antico, spesso le galassie, che sono oggetti molto più grandi ed esterni alla velatia, venivano confuse come oggetti molto più piccoli all'interno della galassia. Quindi questo catalogo, anche se considerato come catalogo per nebulose, in realtà è un catalogo che comprende anche molte galassie, proprio perché le galassie in passato venivano scambiate per nebulose. E qui vediamo in dettaglio il catalogo di Messier con i suoi 110 oggetti. E poi parliamo dei filtri nebulari, ovvero è possibile con dei speciali materiali filtrare specifiche lunghezze d'onda e poter isolarle dall'immagine. Qui abbiamo lo stesso oggetto, la nebulosa della tarantola, e vediamo questo oggetto filtrato. Possiamo vedere che l'immagine filtrata, ovvero che ci fa mostrare solamente un specifico intervallo di lunghezze d'onda, ci mostra dettagli maggiori e invisibili in un'immagine invece non filtrata. Qui possiamo vedere il confronto. Quindi, osservando lo stesso oggetto a specifiche lunghezze d'onda, possiamo osservare dettagli particolari. Ad esempio, esiste il filtro H-alfa, ovvero un filtro che fa passare solamente la luce dell'idrogeno ionizzato, quella che ha una lunghezza d'onda di 656,3 nanometri. E qui possiamo vedere un'immagine della nebulosa a testa di cavallo ripresa solamente con questo filtro. In quest'immagine, di fatto, vediamo solamente l'idrogeno ionizzato della nebulosa. Tutto il resto non viene osservato. Quindi questo filtro ci permette di vedere dei dettagli particolari e di osservare solamente la componente dell'idrogeno ionizzato che compone l'intera nebulosa. Tutto il resto non compare nell'immagine. Poi ancora, studiando la spettroscopia della nebulosa, ovvero lo spettro della loro emissione, possiamo trovare molte informazioni. Intanto c'è da dire una cosa. A differenza delle stelle, le nebulose sono oggetti che hanno uno spettro di emissione, ovvero normalmente una stella emette tutte le lunghezze d'onda e ha delle righe nere di assorbimento di elementi chimici che assorbono, sottraggono lunghezze d'onda. Quindi in realtà lo spettro di una stella è uno spettro in cui mancano delle linee che sono state assorbite. Quindi si chiama spettro di assorbimento. Invece nel caso delle nebulose, loro hanno solamente delle specifiche lunghezze d'emissione, ovvero non emettono tutte le lunghezze d'onda, ma solamente specifiche lunghezze d'onda. Nel caso delle nebulose a emissione, la specifica lunghezza d'onda che emettono è quella della calfa, con lunghezza d'onda di 656,3 nanometri. E la vediamo in questa immagine. È quella che dà la caratteristica colorazione rossastra alle nebulose d'emissione. Mentre nell'idrogeno neutro, che possiamo vedere anche nelle nebulose a riflessione, la radiazione emessa, è quella tipica già detta tante volte, con lunghezza d'onda di 21 cm e frequenza di 1420 Hz. Queste radiazioni possono dare numerose informazioni sulla quantità di atomi e quindi anche la densità della nebulosa, ma anche la sua temperatura e la sua velocità di espansione o di movimento, studiando l'effetto Doppler di spostamento verso il rosso o di spostamento verso il blu. Abbiamo già visto l'effetto Doppler nelle lezioni precedenti. Inoltre, un'altra informazione importantissima è la composizione chimica. Vi ho detto che gli atomi e le sostanze chimiche assorbono specifiche lunghezze d'onda. Andando a studiare gli assorbimenti spettrali di una nebulosa, possiamo sapere gli atomi che contengono. Ad esempio, qui abbiamo l'analisi spettografica della nebulosa Occhio di Gatto e, stando comodamente seduti sulla Terra senza mandare nessuna sonda laggiù, sappiamo benissimo che dentro questa nebulosa c'è una particolare concentrazione di zolfo, ma anche tracce di neon e argon. Quindi possiamo conoscere la composizione chimica, le sostanze chimiche contenute in una nebulosa semplicemente osservando le linee di lunghezze d'onda assorbite dallo spettro della radiazione che ci arriva qui sulla Terra. E ovviamente poi c'è lui, il telescopio spaziale Hubble, in orbita dal 1990, ma è dal 1993, dopo che ha avuto una missione che ha migliorato notevolmente la sua capacità ottica, che ci regala delle immagini spettacolari. Qui, per esempio, abbiamo già visto i pilastri della creazione, questa immagine l'ha fatta proprio il telescopio spaziale Hubble, però Hubble può vedere anche nell'infrarosso ed è stato possibile vedere il confronto tra l'immagine a luce visibile e l'immagine all'infrarosso. La luce visibile e l'ultravioletto non riescono ad attraversare la polvere, mentre l'infrarosso sì, quindi osservare la stessa immagine all'infrarosso, come già spiegato tante volte, ci fa vedere l'interno di una nebulosa. Inoltre, la luce visibile e ultravioletta assorbita dalla polvere viene rimessa sotto forma di infrarosso e quindi anche questo ci dà ulteriori informazioni sulle stelle che vivono all'interno di queste nebulose. Poi, ovviamente, questo non è l'unico esempio. Abbiamo anche la nebulosa di Orione, qui nella luce visibile e qui nell'infrarosso. Vedete com'è possibile vedere cosa c'è dentro una nebulosa semplicemente osservandola a lunghezze d'onda differenti. E ovviamente Hubble è stato uno strumento potentissimo. Inoltre, gli scienziati hanno incrociato i dati tra Hubble ed altri osservatori. Ad esempio, Chandra è un telescopio specializzato nella GX. E quindi cosa hanno fatto? Hanno confrontato le immagini di Hubble alla luce visibile e nell'infrarosso con quella a raggi X del telescopio Chandra. E in questo caso è stato possibile anche confrontare le varie informazioni. Per esempio, nell'immagine a raggi X ci sono diverse tonalità di colori come il rosso, il verde e il viola che evidenziano rispettivamente le energie dei raggi X basse, medie e alte e quindi corrispondono anche alle temperature e all'interazione tra le stelle e il mezzo interstellare di questa nebulosa. Vi ricordo che i raggi X si formano quando le particelle energetiche rilasciate da queste stelle che sono qui all'interno interagiscono in modo molto violento con il gas interstellare. Quindi, lo stesso oggetto, ma ovviamente immagini diverse con informazioni diverse che poi vengono interpolate per poter comprendere molto meglio i meccanismi che avvengono all'interno degli oggetti studiati. Poi ancora, queste sono altre immagini bellissime questa è la nebulosa dell'Aquila dove sono state scoperte quelle potentissime turborenze che hanno aiutato gli scienziati a spiegare come fanno a nascere stelle di grande massa questa è conosciuta anche come SH2-106 oppure la NGC 346 che sta nella piccola nube di Magellano a 200.000 anni luce da noi. Anche grazie a Double abbiamo scoperto che le nube di Magellano sono degli ambienti ricchi di zone ad alta formazione stellare poi ovviamente le nebulose planetarie che sono i resti di stelle di piccola massa che vengono disperse nello spazio interpolando i dati con la luce visibile l'ultravioletto e l'infrarosso è possibile poter distinguere i diversi elementi chimici di cui sono composte queste nebulose e quindi confermare le teorie sulla nucleosintesi stellare di stelle di piccola massa. Hubble ci aiuta a vedere anche l'universo profondo e è stato possibile osservare anche le nebulose di altre galassie in particolare quelle delle due galassie enane satelliti che orbitano intorno alla Via Lattia la grande e la piccola nube di Magellano la grande nube di Magellano si trova a 163.000 anni luce della Terra la piccola nube di Magellano invece a 200.000 anni luce della Terra questa in particolare è la grande nube di Magellano ed è stato possibile osservare la nebulosa della Tarantola che è una zona caratterizzata da idrogeno H2 quindi un idrogeno ionizzato che rende questa nebulosa una nebulosa ad emissione poi abbiamo questa bolla larga almeno 300 anni luce che si trova proprio in questa zona della mini galassia e che testimonia che qui i fenomeni molto intensi di attività stellare ancora abbiamo le due nebulose vicine però molto diverse la blu NGC 2020 e la rossa NGC 2014 entrambe sono nebulose ad emissione e poi ancora abbiamo la N44 che è una nebulosa ricca di attività di formazione stellare proprio grazie a queste nebulose Hubble ha scoperto che le nubi di Magellano specialmente la grande nube di Magellano è nel pieno dell'attività di formazione stellare poi ancora nel 1997 prima ancora di Hubble sempre nella grande nube di Magellano dentro la nebulosa della tarantola è stata scoperta una supernova in fase esplosiva quindi gli astronomi hanno potuto osservare tutte le fasi che avvengono durante una supernova e poi grazie a Hubble l'evoluzione di questa supernova è stata seguita nel tempo oggi è conosciuta come 1987A perché è stata appunto scoperta nel 1987 proprio grazie allo studio di questa supernova gli scienziati hanno compreso i meccanismi della nucleosintesi stellare che avvengono durante questo fenomeno e che danno origine a tutti gli antichimici più pesanti del ferro e poi vediamo la piccola nuve di Magellano meno luminosa della grande nuve di Magellano ma anche più distante si trova a circa 200.000 anni luce anche qui ci sono intense attività di formazione stellare in particolare vi faccio vedere questa che è la NGC 346 una zona di formazione stellare molto luminosa e potete vedere anche qui quanto è bella questo è solamente un estratto della lezione completa sulle nebulose brillanti nella lezione completa spiegherò come si comporta la materia quando interagisce con le diverse frequenze e lunghezze d'onda elettromagnetiche da quella più alta energia come raggi gamma a quella più bassa energia come le onde radio poi vedremo come i venti stellari modellano le nebulose quindi spiegherò queste bellissime morfologie di onde d'urto e bolle di accrescimento vedremo come è distribuito l'idrogeno atomico neutro nella galassia e vedremo la differenza che c'è tra la spettroscopia di assorbimento tipica delle stelle e quella di emissione tipica invece delle nebulose trovate questo ed altro ancora nella lezione 17 del mio corso di astronomia le nebulose brillanti nel mio canale youtube e sulle mie pagine facebook e instagram prof. Antonio Loiacono grazie